Ciao a tutti, ci sarà un ritorno appassionale con lei, chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, segue il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Tremanschi, iscriviti al nuovo canale, felicità e benessere, di tutti i posti, link in descrizione. Mescolate le carte, tagliato, girato e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere quattro casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Ora concentrati su questa lei, della quale vuoi sapere se ci sarà un ritorno passionale, dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4. Per chi ha scelto la carta 1? Se ti dimostrerai un maschio alfa, avrai possibilità di un ritorno, altrimenti molto difficile. Chi ha scelto la carta 2? Ci sarà un cambiamento, ma non positivo per te. Chi ha scelto la carta 3? Ci sarà un ritorno, non soltanto passionale, ma anche un ritorno completo di un'unione solida. Chi ha scelto la carta 4? Ma hai tutte le carte in regola per riuscire a ristabilire un'attrazione nei confronti di questa persona. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!